non è come vorrei. Ho scritto alcune parole su di un foglio, che sono l'essenza dell'umanità che voglio. L'ho affidato al vento, vagabondo, perché lo porti in giro per il mondo. Il vento, come scultore assai capace, riscrive con le nuvole le parole amore, giustizia, libertà e pace, e dà forma ad un aquilone immenso, che spinge dolcemente nell'azzurro intenso. Quelle parole sono lette da uomini vili, che ai bambini non regalano giochi, ma soltanto fucili. La legge chi nel potere è addentro, che uccidendo il pensiero fa ingoiare le parole contro. E anche chi in galera non manda gente infame, ma soltanto quelli che rubano per fame. La legge pure chi dell'amore è stanco, ancor prima che sia scivolato dalle spalle l'abito bianco. Mestamente da me ritorna il vento, mi riconsegna il foglio, e quasi con timore, in un sussurro mi dice «sognatore». Poi così come è arrivato, vola via. Io apro lentamente il foglio e trovo scritta soltanto una parola. Utopia.